pronto? ah ciao mamma si si tutto bene dimmi ma come un'altra cena di parenti mamma l'abbiamo fatta penso neanche un mese fa no sinceramente non ne ho voglia di venire un'altra dai mamma lo so però vabbè dai non esagerare nemmeno tu va bene si ok va bene ciao 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 ma la gara ti finisce prima? dai si sta vai e ragazzi ti fai di fare una gara? dai ci sta dai anche se perderete vai con lei 3 2 1 via e alla fine non è andata così male ciao